la geo ingegneria non è una teoria gli ugelli degli spruzzi chimici sono allineati con i motori ma uno di essi è intasato alluminio bario e stronzio spruzzati nella nostra aria che respiriamo il nostro silenzio è la nostra sottomissione inclusi gli effetti collaterali la malattia dell'alzheimer problemi cronici di respirazione affaticamento cronico e cancro solo per fare qualche nome qualcuno ha chiesto il vostro permesso questo non è lo scarico è veleno su google cercate solar shield 2017 io non lo consento non 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.